Siete in museo, senti nostalgia, inventa rime e storie in nostra compagnia. Benvenuti all'ultimo appuntamento di Rime Museo. Vi ricordate i pesciolini della fiobbe di Pinocchio della scorsa settimana? Oggi ve li presentiamo dal vivo. Mi illumino di notte e mostro il mio splendore. Ma nell'Adriatico non sono famosa solo per il mio bagliore. D'estate la riva si riempie di bagnanti. Mi impastilisco un po' quando ce ne sono tanti. I miei tentacoli urticanti sono lunghi per davvero. Li uso per difendere, mi sono sincero, ma sono anche l'arma per cacciare. Piccoli pesce e crostacei anch'io dovrò mangiare. Chi sono? Sono la Medusa Luminosa! Non sono l'unico pesce che riesce a volare. Posso saltare 30 metri sopra il mare. Ma non è uno sport, è una vita stancante quella mia. Se arriva il predatore, mi tocca scarpar via. La natura però è stata buona con me. Mi ha dato un'arma potente, così che io posso dal mio corpo un giotto d'acqua spruzzare, che mi catapulti fino alle nuvole a volare. Chi sono? Sono il calamaro volante! A me piace starmene per conto mio, perché nei fondali sabbiosi c'è un gran brulichio. Amo dormire e resto nella mia tana fino all'imbrunire. Ho bisogno di riposare fino a quando la cena mi dovrò procurare. La mia arma letale è cambiare colore, mimetizzandomi sono un gran cacciatore. Chi sono? Sono il Moscardino Bianco! Sì, sono quello strampalato. Pensatelo pure, ci sono abituato. Direte voi, essere velenosi che fortuna. Chi mi pesca, anziché mangiarmi, piuttosto digiuna. Tossica la mia carne e mi salva la vita, ma la mia buona sorte non è sempre assistita. Bello con bello, lo dicono tutti, mi fa piacere, però all'acquario non è un bel posto dove rimanere. Mi percono per il gusto di grandi e piccini, ma io ho gran nostalgia dei fondali marini. Chi sono secondo voi? Sono il pesce piramide! E voi, come ve la davate con le rime? Provate a diventarle di nuove ispirandovi ai nostri amici del museo. Vi diamo qualche suggerimento. Provate con il tonnetto, con lo spinarolo, il pesce palla o il pesce arciere. Inviateci le vostre rime e perché no, se volete, qualche disegno ispirato alla storia di Pinocchio. Inviateceli alle nostre pagine social. Saremo molto felici di pubblicarli. Inviateceli alle nostre pagine social.